L'hanno chiesto loro, anzi che mi ha detto che preferisce giocare al centrocampo in signa e mi ha detto che gli piacerebbe fare i trequartisti, mi ha detto mister mi deve togliere una soddisfazione grandissima, perlomeno anche partita a trequartista la voglio fare. E quindi si asseconda la volontà dei giocatori e si vede se poi la volontà dei giocatori corrisponde alle caratteristiche e quindi per ora l'hanno chiesto loro.